Il centro di ricerca ha due organismi. Uno è il team operativo, dove ci sono due designer, un agronomo, un esperto di comunicazione e alcuni insegnanti, alcuni attivisti. E poi un comitato scientifico. Nel sistema tradizionale il rifiuto residuo viene fatto scomparire o in discarica o bruciata negli inceneritori che la trasformano in polveri e in nanopolveri. Invece, come dicevamo prima, per rifiuti zero bisogna studiare attentamente ciò che riempie ancora il sacco grigio. Abbiamo visto che ci sono tre grandi famiglie. La prima famiglia possiamo chiamare errori di conferimento. Le bucce di banana, le bucce di mela sono stati messi nel contenitore sbagliato. Il cattivo conferimento è la patologia. Il nostro lavoro è molto semplice. Noi apriamo alcuni sacchi, casualmente. Patologia, riparabili, riusabili. La terza famiglia è sicuramente la più importante. Qui la patologia è non prodotti non riciclabili e compostabili. È la stessa cosa di errori di progettazione industriale. La terapia è un nuovo disegno industriale. Dopo una singola visita noi scriviamo al sindaco, all'assessore e all'Ascit suggerendo quelli che sono i problemi e quelle che secondo noi dovrebbero essere le soluzioni. Come vedete molta gente ancora, nonostante ci siano le isole ecologiche, i centri di riuso e anche i contenitori gialli lungo le strade per conferire scarpe e vestiti, ancora consegna molti prodotti, alcuni dei quali sono ancora validi, buoni. Le famiglie non sono ancora ben consapevoli che pagano in base a quante volte viene ritirato il sacco grigio. Infatti è solo il primo anno e molte persone probabilmente ancora non se ne sono rese conto. In modo sorprendente abbiamo trovato quantitativi eccessivi riferibili al cattivo conferimento e quindi occorre fare più informazione anche nei confronti delle stesse famiglie. Continuiamo a trovare ovviamente una serie di prodotti che non sono riciclabili e compostabili. Grazie.